musica 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 ciao a tutti a manda corda e manda cordi oggi sono qua per farvi un nuovo video oggi farò un video perché mi è arrivato un bellissimo pacco stratosferico da banggood è un sito veramente bellissimo tutte le cose che vi farò vedere poi vi lascio il link di appunto tutte le cosine favolose giù nel link box quindi appunto se vi piacciono le potete acquistare dai link che trovate appunto giù nel link box e niente queste cose sono veramente fantastiche quindi non vedo l'ora di farvele vedere e niente iniziamo 1 2 3 iniziamo subito la prima cosa sono questi occhiali stratosferici bellissimi si stanno portando veramente tantissimo in america e niente in italiano sono molto popolari però sono sicura che arriveranno perché appunto sono favolosi e sono appunto questa forma molto particolare a cerchio non lo so è molto ovale forse non lo so è veramente bellissima la montatura di questi occhiali è nera e li potete trovare sul sito di vari colori tipo blu e bianchi neri e vari altri colori e appunto questi hanno la montatura nera io ho scelto questi con la montatura nera e con i vetri che sono di questo arancione e sono veramente bellissimi secondo me sono uno o forse anzi i miei occhiali preferiti sono questi pennelli che è un regalino a mia mamma che piacciono sia a me sia a lei a me sono appunto in partire sono questi pennelli a forma di corno di unicorno sapete che io amo gli unicorni quindi appena li ho visti ho detto oh mio dio sono favolosi e come vedete hanno il corno diciamo così dell'unicorno tutta linda e sono cinque pennelli non me ne intendo di make up per niente quindi non lo so a cosa servono penso che questo sia per l'ombretto no ne ho la più pallida idea e la parte di sopra vedete così tutta morbidissima e tutta appunto arcobaleno e sono veramente bellissimi e stra stra morbidi la terza cosa è questo cappellino molto molto carino senza il pezzo di sopra già io in estate faccio sempre scimmio con i codini perché fa veramente caldissimo e con questo sarà più facile mettere i cappelli perché appunto non ha la parte di sopra quindi vedete adesso ho lo chignon e posso mettere il cappello tra l'altro li adoro perché anche Diana Grande usa metterli questo qua è di questo rosso molto 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 carino e appunto è utile perché per l'estate posso fare sia i chignon sia i codini ho acconciature fresche per l'estate posso mettere i cappelli poi l'ultima cosa è veramente spaziale è questa borsa con il gatto di Sailor Moon non so se conoscete Sailor Moon io lo conosco grazie a mia sorella questa borsa è molto carina è veramente grandissima quindi è anche più utile e nel fatto così c'è sia bianca che sarebbe a tennis sia nera che sarebbe appunto luna penso anche se luna è di oscuro però ok e poi c'è anche grigia che sarebbe Diana comunque io sto guardando la perché la ho appunto i gattini di Sailor Moon e non mi voglio sbagliare con i colori quindi guardo luna e dico che è luna e tutte queste cose qua e quindi è troppo carina è a stracolla è veramente bella all'interno è fatta in questo modo qua ha una taschina poi è fatta così ha altre taschine qua non so se la vedete e poi ha un'altra taschina è veramente piena di taschina bene ragazzi il video è finito spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e seguitemi sui social che come sempre vi lascio giù nell'info box commentate e condividete un bacione al prossimo video sayonara